I auguro ogni pace e bene al nome mio personale, al nome di Fram Michele della fraternità e anche al nome di Fram Gabriele, che non può essere qui con noi stasera. La celebrazione del nome Mastico ci offre un'occasione per ringraziare Dio per tutte le benedizioni di cui ci hai fatto dono e di cui continuo a rincomarci abbondantemente ogni giorno. Io e Fram Michele siamo davvero grati per il dono della vita e della fraternità, per voi amati fratelli, per i fratelli dell'altra fraternità e i cominci, per i fratelli di Vescovi presenti stasera e per voi amici che avete voluto essere qui presenti e uniti a noi stasera nella celebrazione del dono della vita. Li ringraziamo nel cuore. Come San Francesco ci ricorda la missione della nostra vita è rendere gloria a Dio solo, che è tutto il bene, ogni bene, il solo bene, in ragione del suo immenso amore per ciascuno di noi. All'inizio di questa celebrazione della festa dei Santi Accangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, ricordiamoci di essere stati chiamati a diventare come Dio, a portare il suo messaggio di vita e di amore e a essere in presenza risanante per tutto il mondo. Ricordiamo della preghiera anche il papà di Franco, Gianni Canifano, e il papà di Massimo Voluto, che ci ha lasciato la scorsa settimana, e in che ora incodono della gioia e della viattitudine eterna. E ringraziamo anche il ritorno del nostro caro fratello e il nostro, a di noi stasera. Chiediamo a Dio di farci amore e dono della sua misericordia e della sua grazia che rinunci.